È un notevole passavanti per il Dipartimento Chirurgico, ma è un notevole passavanti per elevare la qualità dell'assistenza che noi vogliamo dare al cittadino del nostro territorio. Ci stiamo sempre praticando di più a mettere il meglio nella nostra azienda, non pensiamo solo al contenitore, perché oggi si parla solo di contenitore, noi dobbiamo pensare ai contenuti per far sì che il paziente possa curarsi nel migliore dei modi delle nostre strutture. Mancava questo tassello nella nostra ASL, questo strumento che avevano già tutte le asli mitrofe dell'Abruzzo e già ce l'hanno gli ospedali abbi, quindi mancava solo a Termo ed era giusto che anche Termo si dotasse di uno strumento altamente innovativo per l'attività chirurgica e quindi per dare una maggiore assistenza al cittadino e soprattutto per elevare l'attività clinica dei nostri operatori. Il sistema robotico Da Vinci di fatto permette di approcciare la chirurgia mini-invasiva in un modo estremamente innovativo, quindi supera quelli che sono i limiti della laparoscopia, quindi il chirurgo riesce ad approcciare interventi molto complessi seduto da una console, quindi a distanza rispetto al paziente, utilizza degli strumenti, dei master, dei manipolatori di fatto, che trasmettono il movimento alle braccia robotiche sul letto del paziente. Questo viene fatto in maniera estremamente precisa, con una visione, con un ingrandimento a 10x, il filtraggio del tremore delle mani del chirurgo, quindi di fatto si riesce ad avere un gesto chirurgico molto molto fine e molto preciso. Questo porta poi a una serie di vantaggi ovviamente dal punto di vista clinico per il paziente, ma anche per la struttura ospedaliera, perché di fatto viene ridotto il dolore post-operatorio, si riducono le complicanze, il paziente viene dimesso prima dall'ospedale, quindi ritorna alla sua vita sociale e al lavoro prima e sicuramente quindi questo ha una riduzione anche dei costi dell'ospedale molto molto importante. Sicuramente il Da Vinci dall'inizio dell'applicazione, quindi nel 1999, ha ovviamente implementato tutte le caratteristiche che portavano al successo chirurgico e anche aver avuto la possibilità di un network sia di professionisti internazionali e nazionali e quello che è la parte ingegneristica della macchina ha permesso un'evoluzione sicuramente molto più rapida negli ultimi anni.